Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video di Roblox Oggi mi trovo in Murder Mystery 2 e come vedete qua dietro mi seguo un teschio super cattivo Perché ho comprato il pacchetto Elite Infatti vi avevo chiesto nello scorso video vorreste che io cambiassi un pochettino le cose Cambiando nuove skin, nuove animazioni eccetera E mi avete detto tutti quanti li si avete lasciato tantissimi mi piace Quindi ho comprato questo pacchetto e adesso vi farò vedere molto presto come utilizzarlo Oh mio dio non vedo l'ora perché c'ho un nuovo coltello Speriamo di essere subito il... eh sì l'innocente Volevo essere l'assassino però vabbè l'innocente va anche bene Allora ci troviamo in banca si può aprire questo qua per caso c'è una combinazione L'ho aperto, ho aperto il cavo segreto pieno di soldi vediamo cosa c'è qua dentro Oh c'è un bel bottino guardate quanto oro quanti soldi Ottimo, eh tu non mi direi che sei l'assassino, tu non sei l'assassino vero? No, ok forse lei è... Ho un innocente oppure lo sceriffo, non lo so Allora qua c'è scritto che non si possono portare né coltelli e né pistole Quindi l'assassino non può passare qua in mezzo Ah io mi posso nascondere qua dentro invece, vediamo No no dai mi volevo nascondere lì Oh no lui ha qualcosa, lui ha un coltello ragazzi oppure una pistola A uno delle due perché come vedete ha fatto... Ah ok c'è una pistola quindi lui è lo sceriffo Ha sparato appena appena qualcuno No io sono un innocente non mi sparare, sono un innocente No no no, io ho detto che sono un innocente Vuole provare a uccidermi? Allora chissà chi potrebbe essere l'assassino Io nel frattempo colleziono tutte queste monetine Lui ragazzi mi dà l'impressione di essere l'assassino È morto qualcuno È morto qualcuno, mi sa che è morto qualcuno là dentro Oh sì, l'assassino ha appena ucciso qualcuno Vediamo È qua l'assassino? Oh mio Dio mi sa che l'assassino è questo Ragazzi l'assassino è questo qua È lui, è lui, lo vedo Oh no 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 no, scappa 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 Non mi voglio fare prendere Asconditi piuttosto Ok, no mi ha visto, oh cavolo Entra qua Devo correre, devo correre ragazzi ho paura Ho paura, ti prego poliziotto salvaci la vita Ammazza questo assassino Siamo salvi Siamo salvi Sì Siamo riusciti a vincere Oh mio Dio per fortuna Sei stato tu, bravissimo giocatore di football Visto ragazzi era la ragazza come dicevo io Oh non vedo l'ora di provare questo nuovo coltello della morte Guardate è tutto rosso con gli effetti E poi c'ho anche il teschio che mi segue Il teschio cattivo Con il teschio cattivo potrebbero pensare in molti che io sia l'assassino Ma in realtà potrei anche essere un innocente Semplicemente c'ho questo spiritello che mi segue attorno Assassino 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 Sì finalmente sono l'assassino Adesso ci divertiremo Tra non molto riceverò il mio bellissimo coltello E potrò uccidere tutti quanti Oh qua c'è un bel po' di gente Però non ci dobbiamo far vedere adesso Dobbiamo essere ragazzi zitti zitti e silenziosi Quindi qua ci sono due persone Pam pam Ok li ho uccisi Chissà cosa è successo E' morto qualcuno in quella stanza Ups e tu dove pensi di scappare Vieni qua Vieni qua Vieni qua Sì ok Oh mio dio ragazzi Un'altra vittima Un'altra vittima ancora Perfetto Guardate quanto è bello il mio nuovo coltello ragazzi Oh mio dio E' con tutte le particelle Ok sento qualcuno qua nelle vicinanze Devo fingermi un innocente Quindi facciamo un bel ciao 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 vedi Io sono un innocente Sto ballando Quindi non posso mica essere l'assassino E invece lo sono C'è qualcuno qua dentro per caso No sembrerebbe No sembrerebbe che qua sia pulito A meno che sono entrati qua Ok no Non si può entrare là dentro Dove sono tutti quanti Ucci ucci Sento odore di Innocentucci Qualcuno forse nel frigo No Allora devono essere tipo nelle stanze A parte che sento qualcuno Prendere le monete in continuazione E mi sa che qua c'è qualcuno Oh Là abbiamo ben due persone Qua c'è una che sta cercando di scappare Muori 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 Ok Dobbiamo correre ragazzi Non ci dobbiamo fare vedere Oh cavolo Di là non si esce Mannaggia Non ci dobbiamo fare vedere Perché Oh Ma lei era quella con la pistola Lei era il detective Vieni qua Vieni qua Sono un pazzo con l'assassino Sì Ok E adesso l'ultimo Dove si starà nascondendo Potrebbe essere nascosto ovunque Oppure potrebbe già aver preso la pistola No La pistola è ancora là Qui dentro c'è morta un bel po' di gente Sarà mica qua dietro? No Qui dentro non si può Mmm Chissà chi c'è qua sotto Ciao Muori Ok ho vinto Sì ho vinto Oh mio dio è bellissimo giocare con l'assassino Ragazzi è troppo divertente E sono riuscito a vincere Con la mia prima partita D'assassino Oggi Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Se vi piacciono i video Del murder mystery Perché a me divertono tantissimo E soprattutto ora Che ho un nuovo coltello Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto La ciliegina sulla torta Sarebbe diventare Adesso Ecco Sarebbe stato diventare Il poliziotto Purtroppo invece siamo degli innocenti Uh e tu che cosa fai? Ma cosa sei? Nuovo? Guarda Non sembra nuovo Non ho neanche cambiato il suo personaggio Ancora Oh che cosa c'abbiamo qua? Un ologramma con un coltello Lo posso prendere? No Non posso Uffa Questo è tipo il quartier generale Dei super cattive Che cosa sta facendo Quello al gabinetto? Perché riesco a vedere il gabinetto di quello? No 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 Scusa non ti volevo spiare Eh ora torno Vado via Cosa c'è? Una riunione di condominio qua? Perché sono tutti quanti qui? Guarda che io non sono di nuovo l'assassino Eh Ero l'assassino prima Ma adesso no Adesso non più Chiunque gli sia si sta nascondendo per bene Non si è fatto beccare ancora neanche una volta Quest'uomo è abbastanza sospetto Ehi tizio con gli occhiali da sole Ehi fammi vedere le mani Alza le mani Mani in alto ho detto subito Questi sono i computer di quando ero bambino Io Oh È morto qualcuno Chi è morto? Chi è morto? Dove è morto? Oh no Qualcuno ha appena compiuto un omicidio E non sappiamo chi Né dove Sarà per caso nel bagno dei maschi? Ah mi sa che Johnny è andato là in bagno No Non ci posso credere Era lui Era il giocatore di football No Mi ha portato in bagno per poi uccidermi Mentre gli altri non lo guardavano Molto astuto Molto furbo Sì 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 Ci abbiamo Spider-Man Oh mio dio Guardate che figata Spider-Man Ehi Spider-Man dove vai? Smettila di fare il parkour Fatti vedere Aspetta Ti voglio fare vedere i miei fan Dove pensi di scappare? Ok È arrivato la resa dei conti Assassino Uffa Vabbè Innocento Ok ok Oh ma mi trovo nelle fogne Ma Che schifo Ma c'è puzza Che brutto questo posto Ehi tu Sai per caso come uscire da queste fogne? No Vabbè Allora me ne vado per i fatti miei Ok Queste fogne sono molto macabre Ragazzi L'assassino si potrebbe nascondere proprio qua dentro Assieme alle tartarughe ninja Ah Luce del sole Profumo di pulito Che bello Ecco Perfetto Appena sono uscito Mi hanno ucciso Ma si può Ma dai Tan 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 Sono diventato un altro innocente Uffa ma perché sono innocente? Ma questa mi sembra la faccia di un innocente? Questa è la faccia di uno psicopatico Non vedete? C'ho anche un teschio cattivo che mi vola attorno Come faccio ad essere sempre l'innocente? Va bene Va bene Avete ragione Siamo già stati gli assassini una volta Che è successo? Oh no 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 Questo è l'assassino Questo è l'assassino C'ho l'assassino dietro Oddio siamo al cinema Cos'è un film horror? No 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 Voglio scappare Spider-Man salvami tutti prego Oh aspetta Forse mi posso nascondere qua dietro Non si raccorge Vediamo Mi vede? Non mi ha visto Non mi ha visto Mi ha visto No No lasciami stare No Ma non è giusto Ce l'avevo proprio davanti Indovina indovina Cosa sono diventato Un innocente Di nuovo Ma Non posso almeno essere un poliziotto Io vi assicuro che farei un bel lavoro come poliziotto Datemi una pistola in mano E vi ammazzo tutti gli assassini E tutti i criminali del mondo Altro che questo Spider-Man Che non sta facendo niente No Ok basta Scusami eh La partita è appena iniziata È la terza volta che muoio in questo modo stupido Oh Innocente Vabbè Tanto adesso muoio sicuramente Nei primi 5 secondi di partita Volete vedere? Non mi credete? Adesso moriremo Oh ma cos'è questo? Oh Ma Pensavo fosse un cagnolino Allora Potrei nascondermi qua sotto Nello scantinato Ci abbiamo qua Il Guardate il bar Ragazzi Con lo stereo gigante La televisione Qua non mi troverà nessuno Nascondiamoci qua dietro Allora aspettate Aspettate Ok perfetto Siamo ben nascosti adesso Ho come l'impressione che il mio teschio esca di fuori Sì mi sa che possono vedere il teschio Uffa C'è qualcuno Speriamo non sia l'assassino Oh Dov'è l'assassino? È qua forse Forse è qua vicino Vediamo Diamo un'occhiata qua fuori Oh mio dio è lui Mi sa che è lui Mi sa che è lui Scappa 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 Candy E lui è l'assassino secondo voi? No 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 Se n'è andato? Oh Sta ancora qua? Ok C'è qualcuno qua Ma è lui l'assassino? Non penso No non è lui Oh mio dio si è fatto buio Scappa Ho paura ho paura ho paura ho paura Ok qua è morta tantissima gente No 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 mi sa che è veramente lui l'assassino Allora Io mi nascondo qua dietro va bene Qua non mi troveranno mai vero? Oh cavolo esce il mio cappello di fuori No riescono a vedere il cappello Ok non mi ha visto Non mi ha visto Forse l'assassino è lui ragazzi Non mi ha visto qua dietro Non ci posso credere Cos'è cieco? Sei una talpa Sì l'hanno ucciso E vai oh mio dio Wow ragazzi sono riuscito a sopravvivere a un assassino completamente cieco Cos'era? Una talpa quello Mi raccomando lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video di Murder Mystery Dal vostro Candy è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao